Grandi Dreamers, eccoci a Bitcoin 2022 Miami, andiamo a vederlo tutti. Eccoci Grandi Dreamers, siamo nell'area Expo del Bitcoin Conference 2022, abbiamo qui il vulcano che lo faccio vedere perché è il vulcano che ogni tanto sfiata, credo che rappresenti il vulcano del Salvador, con il quale il presidente Ducchiere ha avviato la sua mining farm all'interno del vulcano. Che dire, abbiamo seguito già le prime due conferenze questa mattina, una era con Giacomo Zucco sulla questione relativa a Bitcoin, situazione mondiale, quindi discorso relativo alla guerra in corso, successivamente una conferenza con Johnny Son, che parlava invece del soft fork, ce ne sono davvero tantissima, quindi spero di poter seguirne quanto più posso, twittare poi su Twitter le informazioni più interessanti, un sacco di persone, di bella gente, molti progetti, siamo solo all'inizio, però c'è davvero una marea di progetti, di aziende, di software che sponsorizzano, si sponsorizzano all'interno di quest'area, ci sentiamo più tardi, grandi grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'enorme quantità di opere, qui abbiamo il Bitcoin Bazar, vediamo se si riesce ad inquadrare. Eccolo lì, Bitcoin Bazar, lo vedete al contrario, con tutto il merchandising, però molto 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 originale, devo dire. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere ai lati, eccolo qua. E' un po' se riesco a farvi vedere ai lati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.